ciao a tutti oggi prepareremo il tortino di melanzane alla parmigiana il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora e 30 minuti circa gli ingredienti sono melanzane pangrattato aromatizzato parmigiano pecorino prezzemolo basilico olio evo aglio uova sale pepe noce moscata e per condire salsa di pomodoro condita con olio sale e pepe parmigiano grattugiato prosciutto cotto a fette e formaggio a fette diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano il pecorino il prezzemolo il basilico e facciamo tritare per 20 secondi a velocità 10 mettere da parte senza lavare il boccale mettere l'aglio e l'olio ed azionare il bimbi per tre minuti 120 gradi velocità 1 togliere l'aglio dal boccale aggiungere le melanzane aggiungere il sale il pepe e la noce moscata e cuocere per 20 minuti 100 gradi velocità 1 frullare per 20 secondi a velocità 7 lasciare raffreddare il composto si è raffreddato adesso aggiungere il pan grattato il trito di parmigiano messo da parte e le uova ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4 trasferire metà composto in una pirofile imburrata mettere la salsa di pomodoro che abbiamo condito con olio sale e pepe il parmigiano il prosciutto il formaggio aggiungere il resto del composto di melanzane dell'area bene mettere la salsa di pomodoro rimasta e livellare bene spolverizzare con il parmigiano grattugiato cuocere in forno per riscaldato a 180 gradi per 30 35 minuti tortino di melanzane alla parmigiana grazie e alla prossima ricetta grazie Grazie a tutti.